Mi chiamo Alessandro Dorazzi, sono un cantautore, un musicista e oggi questa bella manifestazione che si chiama Premio Donita è finita all'interno della mia scuola di musica, non sono mia ma anche di Edoardo Vianello, quello dei Vatussi, le salutiamo, oggi non è qui con noi e ospitiamo questi giovani cantautori, questi giovani autori che parteciperanno a questo premio, noi vi ringraziamo di essere venuti all'interno di questa scuola che è una piccola realtà molto importante di questo quartiere, ci troviamo sulla via di Burtina, è un quartiere in periferia dove facciamo musica e insegniamo soprattutto ai ragazzi del quartiere come si sta insieme attraverso la musica, vi ringraziamo, ringrazio a Monica, un saluto a tutti e a presto. Grazie a tutti